bentornati su radio web in volo siamo tornati live in compagnia di christian è noto come screen vision per il suo canale e il suo canale chiamato stroncando l'orrore benvenuto benvenuto su radio web in volo piacere essere qui e un po paura come in tutte le interviste per le domande scomode che possono sorgere soprattutto da parte di chi scrive ma non solo e niente sono pronto anche a svelare i miei segreti più segreti e speriamo bene allora comincerò col mio primo segreto io di tanto tanto mi metto ancora le dita nel naso ecco questa è una cosa che non dico mai vi do qualche esclusiva tutto questo in esclusiva solo qui su radio web in volo no a parte di scherzo no veramente un piacere io infatti ho scoperto sul canale di mighty pirate nella vostra recensione condivisa di fin di jerry cala chicken park però quindi a ottobre dell'anno scorso quindi abbastanza recente abbastanza recente sì 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 però dai io ho scoperto che in realtà il tuo canale ha una storia una storia di lunga data insomma infatti inizio chiedendoti come sia sviluppata la tua identità online anche perché hai iniziato a recensire film all'epoca dei blog web 1.0 quasi o 1.5 vuoi raccontarti i tuoi esordi nel mondo nel mondo di internet a quei tempi è una lunga allora comincio a mettere già i violini tristi intanto si parla non ricordo nemmeno quando è che ho iniziato su youtube 2011 2012 può essere vabbè io ho iniziato un attimino prima via blog a stroncare per così dire film che cosa faccio sostanzialmente all'inizio creavo tramite blog dei piccoli resoconti dei piccoli resoconti comici dove evidenziavo tutte le debolezze tutte le assurdità che c'erano nei b movies principalmente non volevano essere recensioni non volevano avere davvero un tono critico volevano semplicemente far divertire niente poi ho deciso di approdare su un'altra piattaforma di passare da dai blog youtube per due ragioni principalmente primo perché i blog comunque cominciavano a interessare molto ma molto di meno le persone e io volevo raggiungere più un pubblico più vasto possibile e secondo perché la dimensione audio video ti permette di creare molti più sketch molte più gag ti dà occasione di farcire di più insomma la il lato umoristico di una presentazione ecco di una stroncatura e poi speravo di fare soldi sì comunque principalmente per questo legge legge io invece ho visto che la tua prima recensione da fonti che spero essere stata attendibile comunque dovrebbe risalire al 2011 quel periodo tra l'altro pare che c'esse anche non so se già in quel periodo di ottobio forse era al declino mi sembra forse era l'ultimo anno di recensione o era quello dove mi ricordo calma forse era un anno anche anche un anno prima in realtà il mio vero debutto è però il mio primissimo video poi per questione di copyright eccetera l'ho dovuto rimuovere perché il mio primissimo video era stroncando troll 2 ed era uscito un anno prima di cui hai fatto anche un remake se non erro sì e lo meritava il fatto che era un video orribile il mio cioè avevo fatto prima e seconda parte all'epoca perché è troppo due parti da 20 minuti l'uno mi sembrava impossibile adesso la mia media è 50 minuti un'ora video però allora mi sembrava ingestibile era tutto improvvisato ero terribile eccetera sì yotobi c'era già ma io yotobi lo conoscevo anche già quando scrivevo ed è causa sua e per causa sua che non ho iniziato prima su youtube se non c'era yotobi io debuttavo molto prima ma visto che c'era yotobi avevo il terrore di youtube dico caspita questo fa parla di video di film brutti film di serie z io guardavo yotobi e conoscevo i film di cui parlavo di come perché qui non ha parlato di sta scena perché qui non approfittato di questo aggancio per la battuta io continuo cioè io stroncavo i video di yotobi non dico che fosse da stroncare però c'avevo quell'occhio e mi sono deciso di con nuovo uscire anch'io su youtube e portare dal dal blog a youtube e però ho sempre avuto paura di essere additato come clone di yotobi clone di yotobi quindi ho iniziato un po tardi però sì no scusi mi siete interrotto ma è arrivato un commento bellissimo da un certo michele giardi che credo che tu conosca che ha scritto su facebook ma che bella ragazzone l'ho visto anche su instagram in realtà penso si riferisca a te comunque ciao ti voglio ti voglio bene comunque l'ultima su fantozzi contro il joker mi ha distrutto sappilo lui sa di cosa sto parlando mi ha distrutto c'è ancora le lacrime tozzi contro non ce l'ho questa perché lui assieme a dalino danilo lapegna danilo opuce e il puce esatto tiene un podcast dove parlano e più hanno diversi format parlano in film e l'ultimo era a messa paragone fantozzi e il joker quello di top phillips sono riuscito a trovare tantissimi punti in comune e sono morto da ridere tutto il tempo ma che ricordo hai a parte il discorso di youtube italia ormai un decennio fa quando iniziato nel 2011 non seguivo tanta gente seguivo davvero pochissima gente non ero un appassionato di youtube e mi ricordo oltre beh qualcosina di youtube proprio che altro anche mighty seguivo anche mighty già che aveva iniziato un po prima principalmente mi ricordo c'erano tanti video tratti spezzoni tratti da film andava forte andavano forti video musicali semplicemente quelli ufficiali usavo youtube per ascoltare musica anche a volte tramite i video sempre dai canali quelli ufficiali se no c'erano non c'era oddio c'era matano ma non mi piaceva c'era willwush non lo seguivo più di tanto insomma non ho questo ricordo particolare era comunque meglio di oggi no perché non c'erano le polemiche non c'erano le flame war non c'erano tutte quelle cose lì non c'era e non c'era così tanta gente che sgomitava per un quarto d'ora di successo poi è arrivata la parentesi del trash subito dopo già 2011 2012 è cominciata arrivare la parentesi del trash con di pre simone quelli lì e quello è un ricordo che vorrei cancellare giuseppe simone vogliamo parlare di come si chiama quello di aspetta non mi viene il nome l'ho rimosso rosario munis rosario munis grazie ecco esatto aiuto il più recente nozzolino che è arrivato fino a si nozzolino regge ancora e fa dei video musicali fantastici ancora adesso lo esplosio con lori del santo praticamente è un altro grande nome ti stiamo perdendo nel nrdume lori del santo ha fatto una web serie intitolata delle edi fantastica signora c'è un uomo per lei esatto fantastico aiuto aiuto io sono fatto fatica ad andare oltre il secondo episodio di questa web serie andiamo avanti no parliamo invece del tuo canale ah aspetta è arrivata forse una domanda secondo me parlare di lori del santo è più interessante però come vuole solo una cosa eric marchetti dice c'è una cosa che vorrei dire per stroncare l'inizio del film di nightmare il primo e per l'ultimo film di nightmare non ho capito c'è una domanda un'affermazione ogni tanto ogni tanto eric mi scrive queste domande sono da interpretare sono un po da interpretare non ti preoccupare dunque negli anni il tuo recensione si sono popolate di svariati personaggi alcuni reali altri invece immaginari ecco come si è radunata attorno a te questa cerchia di individui qual è il personaggio che ti piace di più di quelli che che ti coadiavano nelle tue ritenzioni allora si sono radunati per necessità io a una certo a un certo punto della mia carriera su youtube soprattutto quando ero ancora da solo quando ero ancora quasi sano notavo che effettivamente mi mancava qualcosa e cominciavo a studiare era un grande fan di james rolf l'angry video game nerd e una volta ho cominciato a vedere una serie di video dove aveva iniziato una war una guerra contro questo doug walker nostalgia critic certo e ho imparato a conoscere il nostalgia critic dopo e mi è piaciuto tantissimo e tuttora io ritengo che il nostalgia critic sia non una ma tre quattro spanne sopra di me tranquillamente cioè per dire stiamo parlando di due eccellenze del del genere del recensore arrabbiato dell'angry reviewer il nostro anche video game nerd james rolf per quanto riguarda i videogiochi è quello più famoso nostalgia critic quello per quello che riguarda i film tendenzialmente i film brutti ecco esatto e io ho cominciato a studiare un attimo nostalgia critic è un parato sia un po i tempi comici e sia l'importanza di avere una sponda di avere qualcuno col quale dialogare col quale agganciare una battuta o farsi agganciare una battuta insomma e ho cominciato a chiedere amici conoscenti o chi di voi vuole fare da spalla comica al mio progetto e i classici amici che non credono a fondo quello che fai che pensano ma tanto non andrà da nessuna parte non hanno abbastanza fiducia in quello che fai non sono persone cattive semplicemente non hanno fiducia e non hanno neanche la stessa passione nessuno si è fatto avanti allora alla fine mi sono detto faccio la spalla comica di me stesso e mi sono fatto prendere la mano troppo non ho più spazio qui non c'è più spazio qua dentro per l'altra gente mi diverte il fatto che la prima personalità che si è creata è quella dello psicologo sì lo psicanalista questo perché ho sempre avuto una passione per la psicanalisi mia io infatti se avesse avuto la possibilità probabilmente avrei intrapreso quella quel ramo avrei studiato quel ramo all'università non ho avuto occasione opportunità di portare avanti gli studi e mi sono creato il mio psicanalista personale un cialtrone di quattordine infatti è quello che mi piace di più da interpretare anche in realtà un po si percepisce perché vedo che lo utilizzi molto nel fatto quel personaggio sai perché sai perché lo utilizzo molto perché mi piace tanto interpretare quel personaggio perché non veste pesante la sua voce è facile da fare ed è tranquillo e rilassato tutti gli altri quando finito sono tutti gli altri personaggi da interpretare per una ragione operata sono un trauma o per la voce o per il è per quello che mi ha preferito il doc soprattutto paul paul emico lui credo sia abbastanza difficile da gestire eh ma mai questa mano così io vorrei sì è un po difficile da gestire sia con la voce che col bestiario porca miseria è vestito con giacca lanosa da pastore e cappello foderato non so cosa mi passava per la cosa mi stava passando per la testa quel giorno ma io l'ho percepito come una sorta di leprechaun volendo volendo ci potrebbe anche stare in alcune recensioni sembra veramente un folletto irlandese parlando dei film visto che era arrivata anche la domanda chiedevano ah qui dicono sarebbe bello avere il tuo personaggio come mio strisacevelli personale dicono però chiedevano quale film 3 sei stroncato con maggior gusto io estendo la domanda ti chiedo direttamente in questo decennio di recensioni quali film che hai recensito ti ha dato maggiore soddisfazione quale è stato quello che hai dato di più e soprattutto ti brucio anche quello che ti volevo ti ho accennato prima di iniziare questa live se ne ci inserai mai joan lui quello era il film esatto piuttosto chiedimi adrian io ti dico forse un annetto o due adesso lascio scorrere che già c'è la bellissima recensione appunto di michele giardi lui ci ha messo quasi tre ore tu mi chiedi joan lui che di suo dura quasi tre ore va bene allora andiamo per ordine quale mi ha dato maggiore soddisfazione stroncare personalmente tutti quelli tutti i film vuoti che non offrono nulla li prendo come sfida personale ad esempio può essere ad esempio no 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 non parentesito parentesi tonde è pieno così di materiale da criticare io parlo proprio di quei film vuoti spenti privi di qualsiasi contenuto e io dico ok la mia sfida è creare contenuto laddove non ce n'è tipo con la squadra della morte ma anche con i film di jesus franco e forse non sono le struncatori più divertenti ed è normale però sono soddisfatto quando comunque tiro fuori qualcosa di vabbè dai si può guardare a livello generico però quella che mi ha dato più soddisfazione è stata la collaborazione che ho fatto con mighty di chicken park perché non ho mai lavorato con un'altra persona mai scritto abbiamo scritto tutte le battute a quattro mani non avevo mai lavorato con un'altra persona proprio al 50 e 50 a livello di video avevo qualche dubbio eccetera ho cercato di essere felissimi ma poi alla fine è venuto tutto naturale ci siamo divertiti come matti noi abbiamo lavorato bene abbiamo lavorato soldi ci siamo divertiti come matti e quel che conta che anche la gente sia divertita quindi proprio mi ha dato doppia soddisfazione il tempo è un video che a me piace molto a livello di risultato finale mi piace molto come è venuto lo rifarei un milione di volte perché se fosse così girare io girerei tutti i giorni non è vero non ho il tempo non ho il tempo state buoni non ho il tempo materiale per farlo però per assurdo ci sono anche le risate sul fondo ho sentito sì ne ho sentite di pre-registrate fatte meglio però dai dai no 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 sto scherzando però per assurdo potrei dire anche anche quello che mi ha dato più problemi come film no quale chicken park cioè mi ha dato più problemi soltanto a livello di studio andare proprio mettere play e studiare il film è stato un dramma anche box office 3d anche box office 3d allucinante tutti e due sono a pari merito c'è un filo rosso si è percepito il filo rosso tra i due film e ci stava infatti mi fa quasi strano che non ci sia questo questo filo rosso tra nelle retensioni di mighty pirate da questi due film perché ci stava benissimo infatti ti iscrive intanto ovviamente si fa per dire se non te la prende però leggo che ho attettato un cuoricino da mighty pirate e poi prima la guerra fra critic e nerd il nostalgia critic e angry videogame nerd di cui parlavamo prima è storia dell'internet per me sull'importanza della sponda hai ragionissima anch'io ne cerco quando posso ma in solitario è più difficile per quello la tua idea delle proiezioni è geniale e tra l'altro non con una tua proiezione ma con un tuo personaggio il povero mighty pirate si è scontrato letteralmente sì abbiamo rifatto quella scena un paio di volte ma poi dopo l'avevo lasciato anche come bloopers in una delle due versioni perché il video è stato caricato sia sul mio canale che sul suo però alla fine del mio video ci sono dei bloopers e alla fine del suo ce ne sono altri non ricordo se sul mio suo però ho messo il bloopers proprio del dopo dopo quella scena con il stop buona risate direi che abbiamo riso per quattro minuti buoni non ci fermavamo più già lui che mi stava ridendo solo per quando mi ero messo lì i codini e dico non parlarne troppo in giro già lì a guardarmi solo per te è colpa sua se c'era Giudi Morales è colpa sua io non ce l'avrei mai messa molto bene molto bene tu come vedi la figura del Angry Reviewer dell'ercensore arrabbiato nel 2021 è una figura comica ancora attuale su internet pensi che potrebbe sbarcare su altri medium magari anche in tv questa cosa l'ho già chiesta anche a Mighty Pirate tra l'altro te la riciro non mi piace molto sta definizione cioè il recensore arrabbiato alla fine sì è l'Hangry Reviewer però io preferisco chiamare il recencomico non per una questione di inglese o italiano più che altro perché Angry Reviewer dà troppo l'impressione dà troppo l'idea di critico in realtà l'Hangry Reviewer non è un vero critico non è un vero recensore è un comico un recencomico per l'appunto mette in piedi il suo spettacolo il suo spettacolino comico utilizza i suoi film come base è diverso da un recensore da un critico perché fa tutto quello che non dovrebbe fare un critico un critico di cinematografico ti esamina attentamente il film ne parla degli aspetti tecnici ti parla degli aspetti tecnici utilizza dei insomma ha studiato per poter fare il critico e principalmente un critico cinematografico guarda tutto anche i film che non gli interessano invece un recencomico guarda soprattutto quello che gli interessa ti spoilerà tutto anche il finale quindi esaminando un po' la definizione io dico sì ancora adesso l'Hangry Reviewer o il recencomico è una figura che non vedo perché non debba cioè è forte ora più che mai visto la quantità di immondizia cinematografica che esce e e lo sarà anche in futuro al massimo potrebbe avere dei momenti dei periodi secondo me dove dei periodi un po' di magra dove l'interesse verso questo tipo di spettacolo andrà un po' calando però si riprenderà perché ribadisco finché vanno avanti i film ci saranno anche i film brutti finché ci saranno i film brutti e parlo soprattutto di quelli un po' o underground un po' cioè quelli che buttano lì delle cose assurde finché ci saranno dei film brutti e c'è qualcuno che cerca di far ridere mostrandone le mancanze creandoci delle battute eccetera perché no quindi sì secondo me ancora nel 2021 questa figura funziona funziona bene e testimone del fatto che io ancora più o meno faccio quelle visual quindi ancora si legge tu dicevi all'inizio di Yotobi insomma essendoci Yotobi magari aveva avuto un attimo di di Tito Banzer a iniziare a fare questo genere di video però è altrettanto vero che in effetti la figura del recensore sembrava predominante ai tempi di Yotobi ed è letteralmente passata in qualche modo di moda dopo che Yotobi ha smesso le recensioni l'effetto più devastante della della chiusura diciamo della stagione di recensioni di Yotobi è stato quello non che poi comunque le recensioni non ci siano state ma il genere del del Angry Reviewer è andato un po' calando in effetti diciamo che non in tanti lo portano perché è un format bello impegnativo da portare avanti Yotobi aveva troncato se non ricordo male perché non aveva interesse nel portarlo avanti non tanto perché c'era un calo cioè era lui che era stanco di fare quel format sognava di diventare uno stand up comedian e cose del genere infatti poi ha partito con le show ha preso tutta un'altra strada e si fa un po' fatica ma cioè la nicchia più o meno è quella secondo me non è che c'è un maggiore o minore interesse rispetto a prima forse non c'è abbastanza gente che sa che esiste questo mondo cioè forse il problema è un po' anche lì ad esempio molti mi chiedono spesso ma perché io tipo sul mio canale YouTube attualmente dovrei avere attorno 22.500 iscritti più o meno e molti mi chiedono una delle domande che mi pongono più spesso perché hai così pochi iscritti rispetto all'impegno alla qualità parole altrui non è che me la canta me la suono e io penso sia semplicemente perché primo parlo di film che non conosce nessuno è già quello perché io devo dare una possibilità a questo che parla di cose che non conosco magari neanche mi danno una possibilità secondo quando vedono un video di 20 30 40 minuti prima parte e poi va avanti dicono caspita io non ho tutto sto tempo o meglio ho questo tempo ma preferirei dedicarlo a qualcosa che sono sicuro mi piaccia quindi magari ancora più difficilmente mi danno una possibilità ecco ho creato una nicchia domanda ma se queste persone che nemmeno mi danno la possibilità provassero a guardare così magari una su tot rimane quindi è un problema il problema alla base è il farsi conoscere più o meno il far capire che non importa se tu conosci o meno il film di cui parlo tanto te lo faccio conoscere io e mi odierai per questo cioè quindi è un po' così è anche detto in futuro ci sarà ancora forse se vogliamo parlavo di periodi di magra forse potremmo considerare questo un piccolo periodo di magra non lo so ribadisco è un è un format tosto è difficile da portare è bello impegnativo a livello di montaggio basta guardare non solo dico i miei anche quelli di mighty pirate a livello di montaggio richiedono tantissimo lavoro certo e quindi molti non ci provano nemmeno forse in realtà conosco tanti altri che ci provano ma che secondo me sono un po' acerbi hanno bisogno di un po' di esperienza manca qualcosa cioè è difficile far funzionare questa faccenda anch'io credo di non essere riuscito a far funzionare la mia quindi sì se può dire che era passare in tv questo tipo di in tv secondo me no in tv no perché la tv ha dei suoi tempi ha dei suoi ritmi è come portare il teatro in televisione il teatro in tv non funziona poi dopo c'è l'appassionato io ho visto tanti spettacoli teatrali in tv all'epoca sono sempre piaciuti però il teatro in tv non funziona e nemmeno questo tipo di format quello dell'angry reviewer funziona in tv il radio sì secondo me sì per esempio la settimana scorsa sono stato ospite presso Radio Sverso a un podcast dedicato ai ripoff all'italiana abbiamo parlato di Sverso sì Radio Sverso ok abbiamo abbiamo parlato di Alien 2 sulla Terra abbiamo parlato del Bosco 1 Terminator 2 quello di Bruno Mattei insomma tutti i film di un certo livello e quando si è basta non essere da soli si è un po' di dialogo abbiamo parlato delle trame abbiamo svilasciato le trame di questi film gli errori i bloopers le storie direttamente la produzione di questo film e quindi quello dell'angry reviewer potrebbe essere anche potrebbe essere secondo me l'angry è una figura che potrebbe approdare anche il radio secondo me sì perché è venuta fuori una trasmissione divertente sia per chi la portava avanti sia per chi la seguiva può essere però non mi hai risposto per quanto riguarda Joan Lui una rimozione non è che non ho risposto vai avanti vai avanti prossima va bene allora no in confusione io ti chiedo progetti futuri per il tuo canale poi eventualmente torno indietro a recuperare se c'è stata qualche domanda nei commenti sì ho appena letto un'affermazione adesso di Nevermore io Scream lo seguirei ovunque e questo è abbastanza è inquietante ora un altro che ha scritto pari una sospetta citazione di Greggio nel suo filmone non so a cosa si riferisce questo commento di Barron da Tocchi non lo so non voglio indagare comunque dicevi ecco ho già dimenticato progetti futuri progetti futuri attualmente ne ho uno solo ne ho uno solo aspettare la fine della pandemia per fermarmi o almeno un paio di settimane cioè perché detta come va detta questo è un periodo nel quale siamo tutti un po' più legati da quello che sta succedendo ok siamo costretti a stare in casa o solo casa lavoro non possiamo viaggiare più di tanto eccetera e quindi io un po' mi sono sentito e mi sento in dovere di dare un po' di respiro creare contenuti per quanto possibile guadagnare no beh quello sempre però intendo dire no sincerità no vabbè a parte a parte gli scherzi mi sento in dovere di creare più contenuti possibili perché penso che ora ce ne sia bisogno e come me tanti altri anch'io fluisco di tanti altri contenuti creati da miei colleghi eccetera in questo periodo più prolifici che mai tuttavia appena daranno il via libera a quello definitivo del tipo ok abbiamo finito e dico signori anche io ho finito ciao no del tipo magari le dirette su twitch magari le porto ancora avanti però questo è il mio unico vero progetto futuro poi altri format ci possono anche stare però ora sono a un livello molto particolare nel senso se devo aggiungere qualcosa devo togliere qualcos'altro quindi cosa sacrifico in favore di è sempre quello il discorso potrei portare altri speciali altri video un po' particolari come avevo fatto con gli Scream TV per un periodo ho portato dei video musicali brutti stroncavo come stroncavo i film ma con i video musicali e potrei fare un qualcosa del genere potrei fare delle video reaction a Rob con le proiezioni personaggi e tutto a materiale di qualche mio collega che merita effettivamente una reaction ovviamente cose del genere magari oltreoceano però non ho nulla di fisso non ho nulla di scritto potrei partecipare potrei fare un film potrei fare una pernacchia potrei non lo so non lo so mi piacerebbe tanto ritornare a fare i raduni no io infatti quando finisce la pandemia seconda cosa la prima è annunciare signori ferie la seconda è comincio a organizzare un raduno anche senza per forza un evento un comic con cioè del tipo signori non so bologna milano andiamo lì ci troviamo una mattina mi manca un po' troppa roba e anche mi manca l'esercizio fisico quello si nota non ti preoccupare siamo in due ok mi sento meno solo però mi sento comunque in colpa io sto pensando adesso figurati al nerd show che purtroppo chiaramente quest'anno non ci potrà non ci potrà essere chissà vedremo questo joan lui joan lui non me lo vuoi dirlo allora joan lui è allora un film con un celentano autocelebrativo al punto che quando tutti quando è uscito adrian mi ricordo tutti a dire ma dai ma cos'è si sente gesù e dico signori è celentano ce l'avete mai visto joan lui a quanto pare molte persone non l'hanno visto se sono rimaste scioccate da adrian perché era il proprio è il celentano autocelebrativo che con le sue verità indiscusse quello è joan lui è un film di quasi di quasi tre ore pesantissimo è una bella prova e la cosa che mi spaventa di più è la durata cioè se io già adesso per un film di un'ora e venti un'ora e mezza faccio dei video da 50 minuti un'ora per un film di tre ore cosa vede fuori ma io ti dico la sincera verità da uno che lo ha visto Sinergo Mortacci tua che mi hai fatto venire la curiosità io ti voglio bene Sinergo però me l'ho sentato a vedere su youtube era gratis dovevi solo pagare due ore e mezza della tua vita però ti dico secondo me di quelle due ore e mezza ne tieni mezz'ora tanto la trama dura mezz'ora veramente e il resto alla fine è un musicarello cioè anche come anche Adrian in un certo senso no? Sì sì è pieno di riempitivi di canzoni cose così però tutto si può riassumere abbastanza brevemente sì un sacco di scene molto sopra le righe eccetera però capito durano talmente tanto che le vedi due secondi capisci di cosa stiamo parlando e passi oltre hai capito quindi è una cosa assoluta io ti dico no non è che è tutto da buttare via come film solo che ripeto veramente poca ciccia allungata di brodo in una maniera allucinante e purtroppo lì neanche le canzoni di Celentano salvano la situazione fanno anche peggio diversamente da Adrian una scena in cui lui che fa questo che già è brutto di suo lui dice tipo venti volte nella stessa canzone questa cosa se non trenta quarta cinquanta è incredibile è incredibile dai ti do qualche speranza ti dirò questo mi hanno già chiesto no mi hanno chiesto già altre volte tante altre volte di stoncare John Louis e io sempre sono sempre scivolato via mettiamolo così quando mi richiedono fino all'esasperazione qualcosa normalmente alla fine la porto potrei averti condannato con questa intervista allora sì la porto come speciale come speciale di cioè per esempio io ho portato il film brutto su Dragon Ball la domanda ne hanno mai fatto uno bello il live action comunque diciamo il più recente come speciale di Natale Dragon Ball Evolution quello lì l'avevo portato perché quell'anno lì mi avevano fatto una testa così avevo portato cent'anni ma quello col cuore perché anch'io lo volevo portare mi avevano fatto una testa così ecco finché mi hanno dato soddisfazione a stroncare proprio che mi ho adorato risultato finale i film con Columbo non so perché ma i film con Franco Columbo hanno un qualcosa di magico un qualcosa di tipo Dreamland ma anche Bretta's Island e Double Cross on Costa's Island è magnifico col suo Sardglish con le trame non sense è qualcosa di inarrivabile esatto è di un'ingenuità incredibile laddove Sardglish è un misto tra inglese e sardo ecco per essere Franco Columbo sapeva parlare due lingue l'inglese e il sardo loro sono prossionisti prossionisti da calma ragazzi quelli sono professionisti dice prossionisti dice incredibile fantastico professionisti professionisti chiudiamo chiudiamo qua tutto più non senso del previsto ed è bello così se nessuno mi deve citare per danni o roba così possiamo anche allora forse ci citerà per danni Mighty Pirate perché sto per fare una cosa che potrebbe percuotersi perché adesso faremo ho fatto un commento per riguardo di lui di Sinergo non è piaciuto e so che lui non piace film Marvel Studios però ha rovinato anche film horror ho letto esattamente così come così come l'ho letto non è che voglio prendere in giro nessuno e io ti chiudo e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito ciao anche a te ciao anche a te Scream grazie per essere con noi è stato un piacere a figura il piacere è tutto mio e speriamo di avere la possibilità di incontrarci al Nerd Show quando sarà possibile intanto di incontrarci intanto di incontrarci è rivolto anche a voi che state seguendo proprio speriamo di avere la possibilità di incontrarci poi dove come quando quelli sono dettagli oppure San Marino Comics senza tanto il comics è d'estate quindi c'è più sicurezza anti-covid tendenzialmente però se devo arrivare da quelle parti mi voglio devo buttare giù un po' di pancetta perché mi vergogno di farmi vedere così ci piace così io cosa dovrei dire allora vabbè bisogna anche saperla portare e io non riesco a fare neanche quello non ti preoccupare grazie per averci seguito e buon proseguimento su Radio Web in Volo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti